L'Abruzzo contro il bullismo, un progetto educativo per la prevenzione del bullismo e il contrasto alla violenza tra i giovani, messo in campo dal premio nazionale Paolo Borsellino con la Regione Abruzzo, il Comune dell'Aquila e l'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo, è rivolto alle scuole che erano presenti in un evento molto partecipato all'auditorium del parco. Il bullismo è sempre più diffuso ma non si può derubricare il ragazzo cattivello che infastidisce agli altri perché non è così, secondo il procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori, David Mancini. Per questo portare avanti i progetti educativi e diffondere sempre più la cultura della legalità, come fa il premio Borsellino, è essenziale. L'attenzione è certamente molto aumentata anche grazie a queste iniziative, al fatto che se ne parli, ma il sommerso c'è certamente, anche perché quando noi parliamo di bullismo non parliamo di un fenomeno a sé, è illegalità, è sopruso, è sopraffazione, è anche criminalità e quindi di conseguenza l'attenzione non deve essere relegata come se fosse, diciamo, un fenomeno di qualche ragazzo cattivello, è tutt'altro. È una forma di sopraffazione che può anche essere criminale che se non adeguatamente contrastata e anche aiutata la persona che, diciamo, si ispira a questo modo di vita può dar luogo a delle forme di violenza e di criminalità molto più preoccupanti. La Regione Abruzzo ha voluto fortemente, in collaborazione col premio Borsellino, l'Associazione Nazionale Magistrati e la Procura Minorire dell'Aquila, questo progetto, questo progetto di l'Abruzzo è contro il bullismo. Perché? Perché si è riscontrato che i giovani hanno bisogno, hanno bisogno di figure, hanno bisogno di testimonial, di influencer, chiamiamoli così, che possano comunque dargli delle dritte. La rete è una grande possibilità per i ragazzi, l'uso delle nuove tecnologie è un bene, ma nasconde anche tante insidie come il cyberbullismo, per questo è importante anche insegnare ai ragazzi un uso consapevole di internet, a scuola come in famiglia. Tantissimi reati corrono sul web, la rete ha grandissimi vantaggi, è come una medaglia, l'altra faccia, la faccia, chiamiamola oscura, non vogliamo così definirla, però bisogna stare attenti, bisogna stare allerta, perché? Perché i giovani hanno grande competenze tecnologiche, tecniche, dico sempre il dito più veloce del West nel momento in cui si va a pubblicare un contenuto, ma bisogna avere anche un senso critico nel capire cosa si pubblica e cosa si condivide, perché a volte anche un like o piuttosto una foto condivisa può generarsi da uno scherzo che mal si adatta alla rete, può tutto questo trasformarsi in un reato.